Mattinata di paura a Pescara dove poco dopo le 8 è scattato l'allarme per la presenza in diverse zone della città di 5 sospetti pacchi bomba rinvenuti in Viale Gabriele D'Annunzio nei pressi del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri davanti al Tribunale, nei pressi della Camera di Commercio in Via Marco Polo, in Via Regina Margherita e nei pressi del distretto Asle di Via Rieti. Immediatamente sono stati attivati tutti i protocolli con l'arrivo sul posto di Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Artificieri e Sanitari del 118. Le zone sono state transennate e inibite al passaggio di auto e pedoni. Successivamente tutti i plichi sospetti sono stati fatti brillare. I pacchi erano delle buste postali imbottite utilizzate per le spedizioni e al cui interno sono stati rinvenuti plastilina e fili elettrici ma nessun ordigno o sostanza pericolosa. Come confermato da fonti investigative uno dei sospetti pacchi bomba è stato rinvenuto nei pressi del portone dell'abitazione di un magistrato che lavora per la procura di Pescara. Su tutti i pacchi sospetti era attaccato un volantino con minacce nei confronti del PM. Le forze dell'ordine sono al lavoro su più fronti per risalire ai responsabili.